Buon pomeriggio e buon sabato anche dalle telegiornali. In primo piano c'è l'economia. In questa edizione il discorso tra Ubi e Intesa San Paolo. Sapete che Intesa San Paolo ha lanciato questa OPS, offerta pubblica di scambio, a Ubi. Il CDA ha confermato le reazioni della prima ora di quando fu appunto dato l'annuncio ed è un sostanziale no grazie. No grazie. Il CDA di Ubi Banca conferma la sua posizione originale nell'OPS, l'offerta pubblica di scambio lanciata da Banca Intesa. Ubi non la definisce ostile ma non concordata e ritiene soprattutto che non sia congura da un punto di vista finanziario. Insomma per i vertici della Banca Bresciana e Bergamasca con questa operazione Banca Intesa mirerebbe a eliminare un concorrente e il CDA ha dato mandato al CEO Victor Messia di compiere un'esplorazione a tutto campo per la ricerca entro fine anno di possibili partner italiani o stranieri. Nel frattempo dalle prossime ore la palla passerà agli azionisti di Ubi Banca che dovranno dare le loro risposte e ai quali si rivolge il CEO di Intesa Carlo Messina. Saranno loro a esprimersi su un progetto volto a creare un gruppo ai vertici europei del settore, rafforzando il contesto domestico. Quella che nasce, ha aggiunto Messina, è una nuova realtà bancaria che trarrà la sua forza proprio dal solido rapporto che già esiste con la comunità con cui opera famiglie, imprenditori, fondazioni. Apriamo la pagina di cronaca con San Polino. Ieri il nostro ospite in quelle di Restarte Brescia, il presidente del quartiere, del consiglio di quartiere, ma ci siamo occupati appunto di San Polino perché ora, dopo i fatti delle ultime settimane, è un sorvegliato speciale. Impegno da parte della questura di Brescia, polizia e carabinieri a un pattugliamento costante per risolvere i problemi che ci sono in queste settimane. Vediamo. Ultimamente c'è da dire che la situazione nel nostro quartiere è abbastanza cambiata e credo che l'abbiano notato tutti i residenti del quartiere. Ultimamente, recentemente, nelle ultime settimane c'è da dire che sono successi numerosi fatti che hanno fatto preoccupare un pochino, diciamo tutti, soprattutto noi in primis come consigli di quartiere. Fin da subito noi, ma non adesso, ci siamo attivati comunque a un controllo, a un monitoraggio del territorio. E ultimamente abbiamo richiesto proprio un aiuto, un intervento straordinario alle forze dell'ordine e alle amministrazioni comunali. Ho avuto personalmente un incontro ravvicinato con il questore del tutto straordinario, questo intervento. Ci ha rassicurato moltissimo, io ringrazio davvero tantissimo il questore per l'attenzione che sta dando nel nostro quartiere, ci ha rassicurato tantissimo e giustamente ci saranno delle indagini programmate nel tempo, nell'arco di un paio di mesi, che vanno a mirare tutte quelle situazioni che sono abbastanza critiche o problematiche. Quindi ad analizzare bene la frequentazione che ci sono nei vari posti del quartiere e un pochino fare questo monitoraggio con l'occhio in più sul territorio che serve. Gli animi del quartiere stavano abbastanza cambiando, sta arrivando della gente nuova e sicuramente la cosa ci preoccupa un po' anche perché si vedono giri strani. Sempre per la cronaca però andiamo a Sarezzo dove c'è stata una tentata rapina, è stata prontamente sventata dal dipendente che ha chiamato il 112, i carabinieri sono subito intervenuti, hanno trovato l'uomo, sono riusciti ancora ad arrestare l'uomo. Vediamo. Era circa luna di notte quando un 27enne romeno con il volto coperto e armato di un coltello da cucina ha tentato di rapinare il motorcaffè in via Lighieri a Sarezzo. Il giovane malvimente ha intimato la ragazza di turno nel locale di consegnargli il denaro contenuto nella cassa. Oltre a una cinquantina di euro contenuti nel registratore si è impossessato anche di alcuni blocchetti di gratta e vinci per un valore pari a circa 600 euro. Fortunatamente la barista è riuscita a fuggire e a dare l'allarme con una chiamata al numero unico per l'emergenza 112, attivando così i carabinieri di Gardone-Valtrompia. I militari, accorse tempestivamente sul luogo della rapina, hanno intercettato il ladro mentre tentava una fuga con l'area furtiva e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Però sul Garda, perché dopo i temporali degli ultimi giorni si fa il conto dei danni, in alcuni casi è un conto abbastanza pesante, soprattutto dal punto di vista dell'agricoltura, uva e olive in primis. Dopo gli ultimi giorni di forte maltempo, la zona che ha subito i danni maggiori sarebbe quella fra Puignago, Muscoline e Polpenazze, dove si è anche verificata una frana che ha costretto anche la chiusura di un'arderia stradale. In alcune zone del Garda si sono registrate anche grandinate che hanno danneggiato le colture pregiate dell'uva e delle olive. In alcune zone la quantità d'acqua caduta in pochi minuti ha fatto saltare tombini e allagato strade e scantinati, in alcuni casi intrappolando coloro che viaggiavano in auto, come è successo a Salò, dove i volontari del Garda hanno liberato un'automobilista rimasto intrappolato in un sottopassaggio pieno d'acqua. A Carpenedolo una donna ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un albero. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero però preoccupazioni. Fortunatamente abbiamo un quadro completamente diverso per questo weekend, perché secondo Trevi Meteo torna il sole, torna il caldo in la giornata di oggi ma anche in quella di domani. Vediamo. In serata ci attendiamo un nuovo marcato peggioramento in particolar modo al nord ma anche sulle regioni centrali, in particolare sulla Val Padana tra tardo pomeriggio e sera ci attendiamo fenomeni localmente anche di forte intensità, rischio di grandinate e forti raffiche di vento, quindi prestate attenzione. Cosa attendersi poi nel corso del weekend? Nella giornata di domani avremo lo spostamento di questo vortice in quota di bassa pressione sulle regioni del centro Italia, favorirà un generale miglioramento del tempo al nord, mentre appunto acquazioni e temporali si andranno a spostare sulle regioni del centro Italia, peggioramento in arrivo dalla sera anche al sud. Domenica il vortice depressionario si porterà sulle nostre regioni meridionali, favorirà quindi spiccata variabilità ed instabilità in particolare sulle regioni del basso Tirreno, quindi Campania, Lucania, Calabria e in parte la Sicilia, mentre al centro nord tornerà a splendere il sole. Per quanto riguarda le temperature, massime che torneranno a risalire nella giornata di domenica al nord e sulle regioni del medio versante tirrenico con punte di 32-33 gradi, mentre sul medio adriatico al sud avremo un generale calo termico, non andremo oltre i 27-28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita Trebi Meteo. E un suggerimento per questo fine settimana, se volete ve lo diamo per chi ama lo shopping e la cultura, messi insieme all'outlet Franciacorta Village, è aperta la mostra Hero Never Dies di José Molina, una mostra davvero molto bella, colorata, dove c'è anche un ricordo e un omaggio ai infermieri, ai medici o a coloro che hanno lavorato durante il Covid-19 nella nostra provincia. Il colore, lo spirito della Spagna, la mostra di José Molina per ripartire. È una mostra molto bella, molto colorata, con dei pezzi unici, con dei personaggi. Come è stata realizzata? Io penso che in questo momento ci voleva un po' di colore, sdrammatizzare un pochettino e allo stesso tempo raccontare delle cose. Questa collezione è sempre fatta di un corpo e una testa, un corpo Lego che rappresenta il mercato e una testa che a volte rappresentano i capolavori dell'arte occidentale, a volte i supereroi, a volte i personaggi della politica e anche un volere avvicinarsi alla gente giovane. Io di solito faccio un altro tipo di opera, però ho voluto tanto, da un paio di anni sto sperimentando con l'action painting, con il pop art, perché ci vuole anche arrivare alla gente giovane che deve sentire anche, secondo me, certi discorsi. Il pubblico è accolto in questa mostra da quest'opera che lei ha realizzato proprio per il territorio bergamasco e bresciano. Sì, abbiamo voluto fare un omaggio a tutte le persone che hanno lavorato sulla sanità, che veramente se qualcuno rappresenta l'eroe oggi sono i medici, infermieri non solo, tanta gente che ha contribuito, in questo momento molto complesso, a darci una mano e a tirarci proprio su. Sono molto contento e proprio dovevamo fare un'opera di questo tipo per donare. Ripartire, ripartire con quello che noi sappiamo fare, quindi la moda, lo shopping, il tempo libero. È uno shopping di natural leisure, quindi la gente comunque si trova all'aperto, trova un contesto di un certo tipo legato fondamentalmente alla Franciacorta, legato al territorio, in un contesto turistico e essere leggeri vuol dire ritornare a essere normali. Noi vogliamo essere la normalità per quanto riguarda tutti i nostri clienti che fortunatamente stanno tornando in maniera molto importante con dei risultati decisamente molto molto buoni che neppure noi inizialmente ci aspettavamo. I saldi partiranno ad agosto, a differenza che in passato per luglio, quindi c'è la possibilità in questo mese di esprimersi attraverso le singole iniziative dei punti vendita e nel nostro caso saremo in grado di raccogliere e dare comunque voce anche ai nostri tenants. E poi ovviamente ad agosto ci sarà questo ritorno al passato, i saldi veramente di fine stagione. Vediamo, è un'iniziativa veramente interessante, l'aspettiamo tutti e sempre nel pieno rispetto del distanziamento sociale siamo convinti di poter dare il nostro supporto. E allora noi andiamo a vedere, si parlava di distanziamento sociale, andiamo a vedere i dati per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus sul nostro sito internet, i dati ovviamente relativi alla giornata di ieri, diffusi ieri sera da Regione Lombardia, 15 nuovi contagi a Brescia, 115 in Lombardia, quasi 10.000 i tamponi effettuati, tra gli altri dati, vedete la slide di Regione Lombardia, rimangono stabili i ricoveri in terapia intensiva, 41, 241 stabili anche i ricoveri non in terapia intensiva, i decessi sono 16.675 più 4 nella giornata di ieri, 2 sono conteggiati nella nostra provincia ma sono però relativi, ci riferisce ATS Brescia agli ultimi giorni di giugno e quindi non alle ultime 24 ore. In questo contesto si cercano anche, si cerca anche di allentare alcune delle ordinanze, ad esempio l'ordinanza Movida, la ricorderete che vietava l'asporto di bibite alcoliche e analcoliche, ora il divieto nella nuova versione dell'ordinanza è solo per le bibite alcoliche, vediamo. Il sindaco di Brescia Emilio Dal Bono ha deciso di prorogare l'ordinanza che mette alcuni paletti e la Movida Bresciana nell'ottica di ridurre il rischio di contagio da Covid-19, valide tutte le norme fino al prossimo 26 luglio compreso, tranne una. Infatti cambia leggermente una piccola parte del testo dell'ordinanza, un allentamento che torna a consentire l'asporto per quanto riguarda le bevande analcoliche. Il nuovo provvedimento infatti recita vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di tutte le tipologie ed esercizi pubblici, al posto del qualsiasi bevanda delle scorse settimane. Un ulteriore passo verso la normalità quindi, magari visto anche l'incoraggiante trend degli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del contagio, che taglia quella norma presentata a maggio dal Comune come la restrizione che rendeva il provvedimento berisciano più duro di quello di Milano. C'è una grande discussione in corso in queste settimane per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sapete che è da riorganizzare in vista della riapertura delle scuole in particolare e con il distanziamento sociale è chiaro che tutto non può essere come era fino allo scorso anno. C'è un aggravante, la provincia di Brescia ha comunicato a TPL, l'azienda del trasporto pubblico locale, di non essere disponibile a versare i 2 milioni di euro che erano stati pattuiti come contributo appunto della provincia. Un ulteriore quindi aggravamento della situazione del trasporto pubblico, ne ha parlato il presidente di TPL Brescia Claudio Bragaglio. Alcuni giorni fa il presidente dell'Agenzia per il trasporto pubblico di Brescia Claudio Bragaglio aveva annunciato il passo indietro della provincia in merito a circa 2 milioni di euro di finanziamento concordati. Ora lo stesso presidente Bragaglio ha rincarato la dose definendo allarmante questo ritiro della provincia, poiché porterebbe a una crisi del trasporto pubblico e del piano studiato in prefettura specialmente in vista della riapertura delle scuole. Altro punto su cui si focalizza Bragaglio è che questo tirarsi indietro anticipi una completa estromissione della provincia dal trasporto pubblico. Il presidente infatti parla di dichiarazioni di Samuele Algisi in cui sembrerebbe che una corrente interna all'ente punterebbe ad un distacco dal TPL. Questo chiamarsi fuori dall'impegno economico della provincia è emblematico di chi crea le condizioni della propria totale estromissione, con il rischio anche di un isolamento dello stesso comune capoluogo, ha detto Bragaglio. Nell'immediato quindi il rischio caos per le scuole, con la provincia partecipe del tavolo prefettizio dal 15 aprile e che demolirebbe con la sua scelta un pilastro su cui si regge l'operazione stessa. Come già sostenuto a tale tavolo, senza i due milioni della provincia il piano scuola TPL non c'è più. Le belle immagini della lince nell'Alto Garda è stata fotografata dalle fototrappole, ve la mostriamo. Nei boschi dell'Alto Garda è tornata la lince, attratta dalla natura selvaggia della foresta regionale gardesano occidentale, la più estesa della Lombardia. Una fototrappola collocata da Airsaf per il monitoraggio della fauna selvatica al confine fra il Trentino e l'area de Magnale ha registrato infatti un insolito e decisamente raro doppio transito dell'animale a distanza di soli due giorni l'uno dall'altro. Lo scorso 8 giugno, all'inizio del pomeriggio, il mammifero entrava in Lombardia e già il 10 a notte fonda ne usciva passando esattamente per lo stesso punto, sotto l'occhio elettronico attento a registrare ogni movimento insolito nel bosco. Le immagini impresse sono di breve durata ma sono anche davvero emozionanti. Mostra un animale tranquillo per nulla spaventato che si muove lentamente nel fitobosco. Il transito per lo stesso punto dell'andata non può essere una coincidenza. Evidentemente stava ripercorrendo all'indietro la stessa traccia di due giorni prima grazie a una traccia olfattiva oppure aveva nascosto una preda nei dintorni da consumare a più riprese. Siamo allo sport ora con la vicenda sempre più intricata tra Balotelli e Brescia Calcio e qui c'è il rischio che parta una battaglia legale e che si arrivi anche in tribunale. Ora all'assalto fra virgolette ovviamente del Brescia Calcio ci va direttamente il giocatore Balotelli. Contromossa di Mario Balotelli. Dopo la notifica della richiesta di risoluzione del contratto in caso di retrocessione fatta per venire dal Brescia l'attaccante nei giorni scorsi è arrivata la risposta dell'entourage del giocatore. Sarebbe stata chiesta infatti la rescissione del contratto per il mancato pagamento dello stipendio. Il tormentone Balotelli dunque continua. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport a marzo l'attaccante avrebbe ricevuto uno stipendio pari a sette giorni lavorativi. Una scelta anomala del Brescia considerato che il 9 marzo Balotelli giocò 77 minuti della gara persa delle rondinelle a Reggio Emilia con il Sassuolo, ultima gara di Serie A prima del lungo lockdown. Balotelli come risposta ha fatto per venire il ricorso nel quale chiede l'accertamento dei giorni lavorati con l'adempimento salariale di quelli mancanti e contestualmente la risoluzione del contratto in essere per il mancato pagamento dello stipendio. E così dopo il ricorso di Massimo Cellino al collegio arbitrale questa volta è proprio Super Mario utilizzare la stessa tattica. A questo si aggiunge la richiesta del pagamento stabilito secondo le scadenze canoniche di tutte le mensilità fino alla chiusura del contratto fissata per il 30 giugno 2022. In questi casi l'accordo prevede che il datore di lavoro debba corrispondere all'intero ingaggio fino a quando il calciatore non trova una nuova squadra. Nel frattempo noi ci occupiamo invece di calcio giocato dopo il 6-0 pesantissimo dell'Inter sul Brescia. Le rondinelle tornano in campo domani, diretta stadio a partire dalle 18.45. Le rondinelle saranno in campo con il Verona alle 19.30. Vediamo la situazione. Il giorno dopo la disfatta di San Siro contro l'Inter il Brescia si è ritrovato per iniziare a preparare la gara di domenica a Rigamonti contro il Verona. Adesso è arrivato il tempo di dire che la gara con gli scaligeri è davvero l'ultima spiaggia per Gastaldello e compagni. Solo una vittoria può permettere al Brescia di sperare ancora in una salvezza che ha comunque dell'impossibile. Giovedì mattina il gruppo si è ritrovato alle 11 a Torbole e Casaglia per il primo giorno di preparazione in vista del derby del Garda. Allenamento di scarico per coloro i quali sono scesi in campo nell'umiliante 6-0 contro l'Inter. A questi si sono aggiunti Torregrossa e Biarnason, subentrati al primo minuto della ripresa. Agli altri Diego Lopez ha fatto svolgere un lavoro più faticoso con esercitazioni tecniche e tattiche. Solo palestra per Ioron e Tonali, ma la loro presenza non è in dubbio. Assenti sicuri saranno invece Chancellor e Ndoi e entrambi i giocatori si sono allenati a parte così come Cistana, il quale potrebbe tornare nelle ultime gare di campionato. Dopo la debacle di San Siro si torna in campo per il derby del Garda, il derby contro l'Ellas Verona. Una partita fondamentale, la gara spartiacque per le speranze e salvezza del Brescia ovviamente da seguire con noi di diretta stadio. Vi aspettiamo per raccontare speriamo una grande partita sperando di raccontarvi quella che può essere la riscossa del Brescia. Mi raccomando scendete in campo con noi. Allora domani sera 18.45 in diretta qui su e-live anche sulla nostra pagina Facebook ovviamente sul nostro sito internet e i vostri commenti e tutto ciò che vorrete raccontarci al nostro numero di Whatsapp 393 16 16 197. Adesso noi parliamo invece di pallavolo perché c'è la conferma di Capitanti Berti all'Atlantide. Dopo le prime importanti riconferme e l'approdo di un giovane dal futuro brillante ecco un altro tassello fondamentale per la prossima stagione dell'Atlantide pallavolo Brescia. Per la sesta stagione consecutiva infatti è stato confermato il ritorno del capitano Simone Tiberti. Tiberti 40 anni a settembre indosserà la maia bianco-blu della sua città che lo acclama alla guida dei tucani per la sesta stagione consecutiva. Per tutti noi il campionato scorso si è concluso con l'amaro in bocca della finale di Coppa Italia persa ammette il capitano. Riprendiamola dove abbiamo interrotto con voglia ed entusiasmo. La squadra è a buon punto, si stanno concretizzando anche le ultime trattative e sono contento che possiamo ripartire sostanzialmente dal nucleo che la scorsa stagione ha fatto così bene. Tiberti ha poi ironizzato sulla sua carta d'identità e sul pensiero che effettivamente gli è passato per la testa del ritiro. Non posso certo smettere prima di Cisolla, ha detto scherzando e focalizzando attenzione sulla prossima stagione. Tiberti non smetterà mai e se lo farà, lo farà qui a Brescia, ha detto coach Roberto Zambonardi a margine della presentazione. Sono sempre tranquillo con lui in campo perché è molto più che un regista, è un uomo squadra con cui il confronto è prezioso e continuo. Ci fermiamo qui con il telegiornale, vi ricordo le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet livebrescia.tv, se siete in mobilità potete consultarlo quando volete sul vostro telefonino, smartphone, tablet o pc, così come vedere dal sito e la diretta del nostro canale 16197. Se volete invece ricevere le notizie direttamente sul vostro telefonino senza nemmeno aprire il sito, allora non dovete fare altro che iscrivervi ai canali Telegram e Live Brescia News oppure Live Brescia Sport è gratuito e tutte le notizie arrivano appunto sul vostro smartphone in tempo reale. Ci vediamo se volete alle 19 stasera per l'edizione della sera, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie a tutti, grazie a tutti.